Come si gioca ad Altered da PC? Esiste una piattaforma oltre a Tabletop Simulator dove si potranno sperimentare le dinamiche del fenomeno Kickstarter? E quali saranno i passaggi da seguire per iniziare a muovere virtualmente i passi nel TCG francese? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale, Altered Online. Il TCG campione di incassi in fase di raccolta fondi arriverà in larga diffusione sui tavoli da gioco questo settembre, ma sarà comunque possibile testarne le dinamiche attraverso la propria piattaforma online. Infatti da privati è stato creato un supporto digitale che vi permetterà di vestire i panni di ogni eroe presente al momento nel primo atto, oltre i cancelli, dando così modo a tutti gli appassionati di viaggiare oltre i confini di Asgarta, esplorando i misteri e i pericoli celati nel tumulto. Quindi nel video di oggi andremo a vedere tutti i passaggi che torneranno utili per dare il via all'avventura, partendo dall'ottenimento del programma fino al momento nel quale pescherete le vostre prime 6 carte. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano. Se ancora non siete iscritti, basta un clic. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà il percorso da seguire per giocare online ad Altered. Andiamo a dargli un'occhiata. La prima cosa da fare sarà cercare sul motore di ricerca ex Altered TCG andando di seguito a selezionare il risultato di casa each.io. Vi lascerò comunque il link alla pagina web in descrizione. Una volta fatto l'accesso al sito, dovrete scegliere il file da scaricare a seconda del sistema operativo che il vostro PC monterà. Personalmente utilizzo Windows. Una volta dato il via al download, vi consiglio di consultare le istruzioni di installazione. Qui avrete una panoramica completa di ogni passaggio da seguire per far funzionare nel migliore dei modi la piattaforma. Terminato il download quindi, non vi resterà altro da fare che aprire la cartella di destinazione del WinRAR e portare tutto sul desktop, estraendo quindi i file su quest'ultimo. Concluso il processo di estrazione, dovrete cliccare sull'icona denominata Ex Altered Win 0.9.1. Sarà da notare che con il tempo la patch, ovvero il numero puntato, in questo caso 0.9.1, potrà subire dei cambiamenti con l'arrivo di nuove carte, espansioni e prodotti vari, rendendo necessario scaricare ulteriori file di gioco. Quindi tenete d'occhio le versioni e i loro aggiornamenti per restare sempre al passo. Aperta quindi l'interfaccia principale, vi ritroverete davanti una schermata di registrazione dove potrete o registrarvi per l'appunto inserendo tutti i dati che vi verranno richiesti, cliccando infine sul pulsante verde Crea Account per completare l'operazione o giocare come ospite. Fra poco vi illustrerò nel dettaglio quale sarà la differenza tra le due voci. Quindi inseriti i dati ove necessario nella schermata principale, potrete accedere all'interno della piattaforma cliccando sul tasto Accesso. Di seguito vi daranno il benvenuto tre voci ben distinte, Personalizzata, Classificata e Mazzi. Prima di tutto però dovrete caricare le immagini delle carte, dato che se non effettuerete il prossimo passaggio letteralmente vi ritroverete a dover gestire delle proxy bianche e quindi per avere l'intero database fino ad ora pubblicato dovrete seguire il seguente passaggio. Premendo il tasto Esc sulla tastiera o cliccando sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra accederete alle impostazioni. Qui dovrete selezionare la voce Importa Automatico nella sezione Gestione Asset. Dopo un breve caricamento quindi, uscendo dalle impostazioni stesse, cliccando Mazzi nella plancia principale avrete tutte le carte in chiaro, pronte per essere utilizzate. Nella schermata in questione inoltre saranno presenti diverse zone dove potrete visionare i deck disponibili per essere giocati, la loro legalità, quanti elementi specifici suddivisi per tipologia faranno parte del vostro mazzo, la curva di mana, il catalogo delle carte e la composizione del deck per singolo elemento con tutte le statistiche del caso. Potrete quindi o selezionare uno degli starter già presenti in lista per testare da subito le dinamiche di Altered o costruire un mazzo da zero. Per farlo vi basterà selezionare la voce Nuovo mazzo, scegliendo dapprima il leader e la rispettiva casata di appartenenza e poi le carte che andranno a formare il deck dal catalogo che avrete a disposizione. Una volta terminato il processo di creazione potrete tornare all'interfaccia principale con l'intento di iniziare a muovere i primi passi nel tumulto. Per farlo dovrete selezionare la voce Classificate, scegliere di seguito il server di appartenenza collegandosi subito dopo, effettuare la scelta del deck che avrete costruito o un altro disponibile tra quelli presenti in lista e cliccare sul tasto Gioca per dare inizio alla ricerca di un avversario. Una volta che il sistema di abbinamento automatico avrà trovato un rivale contro il quale giocare, verrete avvertiti da un suono. Immediatamente dopo, selezionando la voce Pronti, avrete libero accesso al tavolo dove finalmente il match potrà avere inizio. Ok Arcont è perfetto e per quanto riguarda la partita personalizzata non ho avuto modo di sperimentarla a fondo ma se il nome non mente qui potrete testare i deck che avrete creato direttamente con amici o conoscenti o addirittura altri appassionati del TCG in questione, creando stanze private dove si potrà accedere con un codice di invito. Vi spingo quindi ad esplorare più a fondo questa sezione per carpirne ogni aspetto. Ok e invece la differenza tra registrarsi e accedere all'applicazione come ospite? L'unica cosa che cambierà sarà l'impossibilità di accedere alle partite classificate, infatti potrete unicamente costruire il vostro deck personale e far partire un match a seconda delle vostre richieste, mentre per uno scontro contro un altro giocatore situato da qualche parte del globo non vi sarà proprio possibile selezionare la voce che non si illuminerà una volta passata gli sopra il cursore. Altro aspetto interessante sarà poter creare dei draft, infatti al di sotto delle tre voci nell'interfaccia principale ci sarà un ulteriore tasto con sul riportato come giocare draft, ebbene selezionandolo vi verranno fornite tutte le istruzioni per dare inizio a questa modalità di gioco. Concludendo la piattaforma Exalted fornirà ad ogni appassionato o curioso la possibilità di gettarsi a capofitto nell'esplorazione del tumulto, viaggiando da una fazione all'altra comprendendo infine quale delle sei attualmente disponibili farà al caso proprio. E voi scaricherete l'applicazione con l'intento di scoprire le dinamiche del TCG campione di incasi su Kickstarter? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.